Musica 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 Mi ha ispirato un'emozione molto bella A me quel disegno rappresenta una squadra dei disabili Perché adesso il 6 gennaio lo mettono in estazione dell'otto Della lottria d'Italia Boris quando vuole esprimere le emozioni è sempre sincero Quindi è stato il suo modo per comunire la gioia di giocare insieme a noi Tutti quanti insieme nella squadra Tra tre anni insieme nella sesta squadra Era con noi ADS con noi Molto simpatico Grazie pure tu Boris Questo Roberto Musica 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 Che io possa vincere ma se non uscissi Che io possa tentare con tutte le mie forze Due Che io possa vendere con tutte le mie forze Hi cStefan I C restriction Magmi Oh 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 Oh